Eccola Caterina, ci siamo in diretta live qui Ma non è bella? Ma nel bene non c'è una cosa Ma nel male non c'è anche bella Ma nel male non ce l'ho mantengo e là, io voglio donne voglio mangie a chi? a chi? a dove lo vuoi? a dove lo vuoi? a dove lo faccio? che so